È una risorsa interna la nuova direttrice dell'unità operativa complessa dedicata all'infanzia, all'adolescenza, alla famiglia e ai consultori del distretto 1 Bassano Asiago dell'ULS 7 Pedemontana. Si tratta della dottoressa Roberta Cernetti che già ben conosce la realtà del territorio su un tema così complesso e delicato, avendo diretto negli ultimi sei anni l'unità operativa semplice di neuropsichiatria infantile di Bassano, nell'ambito del WOC che ora andrà a dirigere. Sono onorata dell'incarico ricevuto, commenta, consapevole della dedizione e competenza necessarie per accompagnare e trattare al meglio i nostri bimbi e i nostri giovani e supportare le loro famiglie. Questo non è un periodo facile, la pandemia ha aumentato le distanze e ha acuito la sofferenza emotiva e psichica delle persone più fragili. Laureata in medicina e chirurgia all'Università di Patova, dove ha conseguito anche la specializzazione in neuropsichiatria infantile, la dottoressa Cernetti viene da esperienze professionali nell'ex ULS 8 Asolo e ex ULS 15 Alta Padovana. Parallelamente ha svolto un'attività didattica presso il provveditorato degli studi di Vicenza, tenendo un corso di specializzazione sull'insegnamento del sostegno degli alunni con disabilità. Troppe volte si parla dei servizi dedicati all'infanzia, adolescenza e famiglia solo di fronte ad un fatto di cronaca di particolare gravità, sottolinea il direttore generale dell'ULS Carlo Bramezza, ma in realtà questo è un ambito di impegno quotidiano che ha grande importanza, nel quale da sempre è particolarmente importante anche l'integrazione con gli altri attori del territorio, come i servizi sociali, amministrazioni comunali e il mondo del volontariato. Grazie!